Ciao, sono Eddie, CEO di Influencer4All, la redazione digitale dedicata agli influencer emergenti. TikTok è un'applicazione che arriva dalla Cina ed è stata creata da Zhang Yiming nel settembre 2016. È nata come un'app di video musicali amatoriali, ma che poi si è allargata a tutti i tipi di video brevi. La missione di TikTok è far sì che chiunque nel mondo possa dare libera espressione della propria fantasia nei modi e tempi ritenuti più opportuni. La piattaforma ospita lavori creativi in forma di video che aiutano a donare un'esperienza genuina, ispirante e divertente, o perlomeno è quello che dicono di sé gli utilizzatori di TikTok. L'applicazione consente agli utenti di guardare clip musicali, creare brevi video fino ad un massimo di 60 secondi, ma soprattutto di modificare e aggiungere un gran numero di effetti speciali a piacere in modo assai semplice e intuitivo. Per rendere l'idea possiamo dire che TikTok è una sorta di karaoke visivo, in cui composizioni al limite della fantasia diventano alla portata di tutti, realizzabili direttamente con pochi step sul proprio cellulare. Il loro slogan è Make Every Second Count, cioè dà importanza ad ogni secondo, il che ha senso dato che i video durano solo una manciata di secondi. Quindi cosa c'è su TikTok? Il trampolino di lancio è dovuto anche all'inglobazione che TikTok ha fatto di Musical.ly. La conoscete o l'avete mai sentita nominare? Alex Zhu, cofondatore di Musical.ly e ora vicepresidente senior di TikTok, ha dichiarato di essere elettrizzato e di essere stato ammesso in questo nuovo progetto con la compagnia cinese. Alex Zhu un tempo aveva dichiarato Vogliamo catturare la creatività e la conoscenza del mondo sotto questo nuovo nome e ricordare a tutti di fare ricchezza di ogni momento nella vita. Combinare Musical.ly e TikTok è una scelta semplice, data dal compito condiviso di entrambe le esperienze. Vogliamo dar vita ad una comunità in cui tutti possano essere ideatori. La musica di cui dispone TikTok è molto ampia con una grande varietà di tendenze, tra cui hip hop più in voga e la musica elettronica. Danza, ironia, abbigliamento e bellezza, ogni ambito sta scoprendo un nuovo modo di comunicare, ottenendo il massimo rendimento. Perciò, come funziona TikTok? In primis, ovviamente bisogna scaricare l'applicazione sul proprio smartphone e iscriversi con il proprio numero di telefono o la propria mail. Una volta installata l'applicazione, ci troveremo di fronte ad una faccia simile a quella di Instagram e Facebook. Dalla pagina principale potremo accedere ai contenuti caricati dagli altri utenti, quelli seguiti e anche quelli suggeriti per te direttamente dal sistema. Mentre guardiamo un video, sulla destra troveremo la foto in piccolo del profilo dell'utente che l'ha caricato e premendo sulla foto entreremo nel suo profilo. Come creiamo un video su TikTok? È semplicissimo. Basta premere sull'icona più in basso al centro e seguire la procedura guidata, che è comunque piuttosto semplice, proposta dall'applicazione. Una volta fatto il video e modificato secondo i tuoi gusti, dovrai semplicemente caricarlo nel social e il resto verrà da sé. Bene, ora che sai un po' cos'è TikTok e come funziona, sai inoltre che noi di Influencer4All siamo sempre disponibili per qualsiasi domanda o chiarimento, in modo da dare ad ogni influencer emergente tutto l'aiuto di cui ha bisogno. Ci sentiamo presto! Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti